Marco Farinelli, mister della Virtus San Giustino, la squadra salvo occasioni dell'ultima ora e qualche sottocuota che dovete valutare che è stato visionando in questi giorni è stata costruita, sulla carta ci sembra una buona squadra. Mister c'è da confermare quanto di buono è stato fatto la passata stagione. La rosa è quasi al completo, la società si è mossa subito quest'anno, i primi giorni subito dopo finito il campionato. Abbiamo integrato la rosa l'anno scorso perché dopo aver fatto il bel campionato era giusto secondo me confermare per un 80-90% la rosa e poi andare ad integrare soprattutto a livello numerico la rosa dell'anno scorso. Credo che quest'anno per noi sia una sfida veramente difficile perché l'anno scorso chiaramente partivamo un po' da zero, era per noi veramente un anno zero. Abbiamo fatto forse più anche delle aspettative di quello che era in previsione, però quest'anno chiaramente dobbiamo confermare o addirittura migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Mister, questi giovani che provengono dal vivaio della Virtus San Giustino con un anno in più sulle spalle, con minuti importanti che hanno speso nel corso della passata stagione, quanto potranno in termini percentuali dare di più? Dipende come prenderemo le esperienze maturate lo scorso anno perché l'anno scorso abbiamo fatto veramente un campionato da protagonisti, siamo stati per tre quarti delle giornate nelle prime tre posizioni. Abbiamo giocato partite importantissime con tanto pubblico, mi ricordo il derby con Lama, con lo scontro al vertice con il Ventinella, quindi partite che veramente sono di arricchimento per un processo di crescita di un giocatore e di un allenatore e di una società. Se sapremo prendere il buono e le cose positive di quell'esperienza sicuramente ci arricchiranno e ci permetteranno di fare il salto di qualità. Se invece penseremo di avere un atteggiamento un po' presuntuoso perché l'anno scorso abbiamo fatto delle buone cose, troveremo tante difficoltà. Che campionato ti aspetti per quanto riguarda il campionato di promozione stagione 2014-2015? Ci sembra che tutte si stiano muovendo abbastanza bene, sarà un campionato forse più competitivo rispetto all'anno scorso, però la squadra a Mazzacampionato non mi sembra di vederla. Ma sai, fare questi discorsi a metà luglio è sempre difficile. È chiaro che con la riforma dei campionati, quindi con una serie C in meno, molti giocatori a cascata per trovare squadra devono scendere in categoria. Quindi questo fa sì che sicuramente il livello sarà alzato, ma non solamente in promozione, ma anche in altre categorie. Poi ancora, secondo me, è presto per capire e valutare quali sono le squadre che possono essere protagoniste su questo campionato, sul campionato di promozione. Però chiaramente sto vedendo che non solo le squadre d'Alte Tiberine, ma anche le squadre del Perugino e del Lago si stanno muovendo bene e si stanno veramente rinforzando. Un'ultima domanda. Molti giovani, lo abbiamo detto, provengono dal tuo settore giovanile, quello che hai allenato anche nelle scorse stagioni. Quanti inserimenti conti di fare dalla Juniores alla prima squadra quest'anno? Ma guarda, quest'anno ci saranno diversi nuovi ingressi perché i sottocuoto titolari di anno scorso, qualcuno per raggiunto il limite d'età passerà tra i grandi, qualcuno per altre scelte personali, quindi di studio, eccetera, non sarà più con noi. E di conseguenza dovremmo integrare la Rosa con altri ragazzi ancora più giovani, credo anche addirittura da anni 97, se non addirittura in classe 98. Comunque penso che numericamente 4-5 innesti nuovi provenienti dal settore giovanile ci saranno. Data di inizio della preparazione? Inizieremo il 6 agosto perché i campionati quest'anno in Umbria inizieranno molto presto, iniziano il 7 di settembre, quindi avremo poco spazio per prepararci, anche perché, come penso un po' tutte le squadre, la Rosa al completo l'avremo poi dopo il 18 agosto perché fino a quella data, chiaramente i ragazzi, qualcuno ha già preso impegni per le vacanze e di conseguenza dovremo un po' gestire la situazione. Noi per il 24 agosto, quando sarà la prima giornata di Coppa Italia, ci faremo trovare pronti.